Un quinquennio tutto in segno positivo per la BCC di Aquara di cui è direttore generale Antonio Marino. Dal 2016 al 2021 si sono registrati risultati che determinano la continuità dell'azione di crescita e di consolidamento. Le percentuali di crescita delle voci principali del nostro bilancio sono molto significative, spiega il direttore generale Marino, nel dettaglio ad esempio raccolta impieghi cioè depositi e prestiti con la clientela sono cresciute oltre il 70%, veramente un dato significativo se consideriamo che è tutto frutto della nostra azione sul territorio, della nostra capacità di coltivare relazioni, della buona reputazione di cui la banca gode sul territorio di competenza. Siamo al 43 esimo esercizio e la banca non ha realizzato nessuna fusione, quindi tutto ciò che abbiamo fatto lo abbiamo attivato senza immissioni forzate dall'esterno. Marino poi aggiunge il numero dei soci non è eccessivo, in verità dovremmo avere un numero più alto. Nel corso del 2022 cercheremo di incrementarlo e sicuramente manterremo bassa la quota che devono pagare i nuovi soci per entrare a far parte della nostra organizzazione. Per quanto riguarda il numero degli sportelli, la BCC Aquara è in crescita nell'ultimo quinquennio del 78% passando da 9 a 16. Marino spiega non aumenterà ulteriormente in quanto il costo di gestione degli sportelli ha raggiunto livelli molto significativi per cui non è consigliabile aprirne altri. Comunque le grosse banche chiudono sportelli, noi li apriamo, è un bel segnale. Rilevante per la BCC Aquara il numero dei conti correnti posti in essere da 13.078 nel 2016 a 20.374 allo scorso 31 dicembre con un incremento del 56%. A tal proposito il direttore generale Marino indica superare i 20.000 conti correnti è il segnale più qualificante e fa intuire la fiducia della gente verso la banca. Entro fine 2022 supereremo certamente i 21.000 conti correnti. Insomma possiamo essere ragionevolmente soddisfatti del lavoro fatto in questi ultimi cinque anni e ci apprestiamo nonostante le difficoltà create dal virus a continuare questo ritmo di crescita e infine conclude Marino. Più la banca cresce più diventa solida e può dare servizi e risposte migliori.